Noi ragazzi qua è Bronisifoco Qua siamo ritornati su Minecraft e sono già un po' preparato per fare un po' di cose Bella Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo allora? Non mi a caso Ecco non lo chiamo che è meglio e facciamo Così Così Facciamo Così e così e boom Ok Minecraft Vai 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 Ok Il pastore Volevo Prepararvi E provo a vedere Una casa Una casa La seconda La seconda La più bella Così allora dovete prendere del legno normale Poi dovete prendere un blocco in corso un blocco in corso poi dovete prendere le scale di mattone dovete prendere una porta una porta così poi dovete prendere anche questo e così vi farò vedere come si fa allora qua che è un bel posto quindi allora facciamo un po' la nostra casa sarà un po' un casino però vabbè da che è grande 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 e dei soldi allora ora mettiamola così poi facciamola così facciamola così qui e qui ok ok questo è il gioco stavano tutto qua facciamo così 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 cosa così 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 non so che è troppo grande così adesso la parte più bella e la prima puntata è finita, bella aria d'apro, non rischi il fuoco, apri il fuoco è tutto, bella aria d'acqua, grazie.